Stai bleffando! Ne sei così sicuro? No! Non farmi del male! Ti darò quello che vuoi! Ladybug, no! Non farlo! Marinette! Perdona, Lucia! Se sono questi quelli che vuoi, allora prendili! Ora lascialo andare! Marinette, no! Se è quello che vuoi... Che mani di burro! No! Adrian! No! Adrian! È solo un'illusione, Marinette! No! Marinette! Salvalo! Non è reale! Non sai andare! Tu puoi salvarlo! Adrien! Adrien! Marinette! Perché non l'hai salvato? Dovevi salvare lui! Adrien! Adrien! Perdonami! Marinette! Per favore, guardami! L'essere sono lasciata! Marinette, ascolta! Io so che quello non era il vero Adrien! Perché io sono proprio qui! Ciao, Marinette! Sorpresa? Basta! Va via! Sono stufa di queste illusioni! Ma Marinette, non sono un'illusione! Per favore, apri gli occhi! È tutto ok, te lo prometto! So che sei spaventata! Ma guarda giù! Vedi Adrien là giù! No! Questo perché era un falso! Ma io... Io sono vero! Vedi? Bene! Adesso abbiamo una questione da risolvere! C'è una certa volpe da catturare! E un paio di orecchini da riprendere! Rimani qui, Milady! Plug! Trasformami! Adrien! 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 Allora... Hai voglia di parlare un po'? Che giornata, eh? Chi avrebbe mai immaginato che sarebbe andata così? Giusto, Marinette? Ehi... Sei... Sei delusa che sia io? Eh? Delusa? Come potrei essere delusa? Ho appena scoperto che per tutto questo tempo il mio partner è il ragazzo più incredibile! Dolce, intelligente e bello! Per cui io ho un'enorme corta scuola! Ed è così perfetto, eh? Oddio, sto blatterando! Accedetemi! Ed io... Io sono solo... Io sono così impacciata! Ho causato un'acqua! Ho ceduto i miei miracolos! Ho rischiato di morire! Sotto la macchina... Sono solo una ragazza timida, sbadata e maldestra! Probabilmente... Sono io, non essere la lady che ti aspettavi! Coraggiosa? Sì! Spiritosa? Sì! Fantastica? Sì! Giusta? Sì! Disinteressata? Cosa stai facendo? Sì! Bella? Oh diavolo, sì! Talentuosa? Sì! Gentile? Sì! Curiosa? Sì! Adoravi gli lentiggini? Decisamente! Sì! Sto descrivendo Ladybug Usando esattamente le stesse parole che userei per descrivere te, Marinette Perché vedi? Con o senza quella maschera Sei la stessa persona sotto di essa Una ragazza incredibile Di buon cuore Bellissima e intelligente Sia che tu ti vesta con un costume rosso O con una maglia bianca a fiori E beh Io ti sto solo chiedendo Se ti piace il ragazzo che c'è sotto il vestito di pelle nera E sotto le battute da gatto Adria? Certo che le piaci Alla stanza tappezzata di foto con la tua faccia Tiki Non dovresti dire queste cose Sì Beh Riguardo quello Ci sono alcune foto di riviste Ma Quello è Oh no 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 Non sto ridendo per te Milady È solo che Vieni qui Ti rivelo un piccolo segreto ok? Io ho delle action figures di Ladybug Vuoi dire bambole? No action figures è diverso Stai zitto Plag Dici sul serio? Già Inclusa una limited edition curata nei minimi dettagli Con lo yoyo che si illumina Cosa? Non ci credo Ed io che pensavo che fosse più una cosa da Alia o da Chloe Che carina Marinette Sono felice Che sia tu Che carina Che ero? Grazie.